Ciao ragazzi, io sono Gianangelo e oggi insieme daremo il buongiorno a Gesù. Ma prima di cominciare, canteremo una piccola canzone introduttiva. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Spirito del Padre, che nella tua infinita bontà mi hai donato la vita attraverso i miei genitori. Proteggeli a ogni costo. Questo lunedì 14 dicembre possiamo scegliere se mettere il disegno di nostra madre e nostro padre fatto da noi o il disegno da ritagliare nella tenda. Bene, adesso concludiamo con un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nella nostra morte. Amen. Ciao ragazzi!